La formazione di misennatini è un'assenza più importante di quella di Sergio Paletti che ha appunto reoccupato nella settimana della tribuna. E' iniziata proprio in questo istante la sfida tra Tempio e Carteri. La prima in questa gara, il primo brimido, la prima emozione, intanto qui si infetti ancora che mette in corner per la luce. Cambia, 15 e 20, non ci voleva. Cucu, Angelo! Ora Rodelli, Ferraro che si ruba palla, Ferraro va giù, piedi di Mimosa, la sinistra questa palla di Mosa, c'è dietro all'Oia, di vita dell'Oia, lui adesso si deve incinare, colpire, attenzione, il gol! Fisca, Francesco, Aroia! Francesco, Aroia! 1-0! E' lui che è dal centro, Fisca, Francesco, Aroia! Gran gol! Ma pensa che l'angolino alla destra è impossibile! Riccardo D'Ore ha preso la mira e ha messo dentro al centro, abbiamo detto ora sempre un po' il brimido, un escoltino di 45 anni, dunque Sigli e Fauli, tanto si sono partiti per il secondo tempo. La messa in aria è libero, il giocatore della Lanterni che può concludere! C'è un'amica in aria è libero! Non è deciso che si fa un nello, non è capace, non è capace, ma è capace! Un ragione di comissio che abbiamo detto! Alla direttamente in porta! C'è un paio, un paio, un paio, un paio! Alla via, un paio, 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 un paio! Alla centrale! Terraro, non intercettato, fa battere... Oh, oh, oh! Che ne va! Oh! 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 Il stagione è un bel ragazzo, si rialza, si rialza, si rialza, si rialza, si rialza, si rialza, si rialza. Grazie. 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 Grazie.